Musica Allora abbiamo qui con noi l'importante presenza della maestra Angela Chiasai che viene da Roma e vorremmo sapere da lei le prime impressioni e i suoi sentimenti verso l'associazione culturale Italianarte Devo dire che è tanto tempo che io sono nel settore, che opero, faccio tante mostre Di Italianarte ho un ottimo giudizio e l'ho incontrata anche alla mostra di Bologna era presente e ho avuto modo che tutti gli organizzatori, insomma tutta la troupe è veramente molto efficiente e anche oggi devo dire che insomma sono contenta di stare qui in questo splendido teatro paesiello e mi ha dato la possibilità anche di vedere Lecce che è una città bellissima con tutto il suo barocco e continuerò a vederla anche domani Benissimo, grazie della sua presenza e allora ci rivediamo più tardi sul palco per la premiazione Abbiamo già finito? Allora mi dica due parole sulla sua arte Allora la mia arte nasce come figurativa, ritrattista soprattutto e col tempo sto andando sull'astratto e anche sul surreale perché vorrei lasciare sempre, dare sempre a ogni mia opera un significato profondo non solo visivo ma anche psicologico e questo è un impegno importante è un impegno importante, sì, che mi sono imposta in questo momento faccio tanti auguri di Buon Natale a tutti voi insomma all'associazione che tutto continui sempre così per il meglio Grazie, anche a lei Andiamo a rivederci anche l'anno ogni quanto lo fate? Ogni due anni? No, ogni anno Ogni anno, l'anno prossimo Va bene, grazie, arrivederci Grazie